Nel fine settimana, appena trascorso, le temperature di nuovo alte hanno fatto tornare la paura a incendi in Sicilia, soprattutto nel Palermitano e nel Trapanese, zone già colpite negli scorsi mesi. Roghi sono divampati a Piana degli Albanesi, a Belmonte Mezzagno e nella zona di Santa Cristina Gela. Un grosso incendio è poi divampato a Scopello, lungo la strada provinciale che conduce al borgo. Il rogo si è diffuso in un terreno incolto, a pochi metri dalla strada e dal Bibio. Sul posto sono al lavoro da ora alcune squadre della forestale ai vigili del fuoco, in azione anche a ridosso della riserva dello Zingora, altra area interessata dalle fiamme. Le aree, particolarmente impervie, hanno reso necessario l'intervento dei Canadair per spegnere le fiamme. Sono arrivati dall'aeroporto di Trapani, mentre due elicotteri antincendio da Bocca di Falco hanno raggiunto la zona interessata. Via Terra sono invece entrati in azione i vigili del fuoco ed il personale antincendio dei forestali. A partire da domani però è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Si prevede una nuova perturbazione sulle regioni del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre nel centro-nord le temperature scenderanno sotto le medie. Da giovedì poi è atteso un sensibile rialzo termico, grazie anche agli afflussi d'aria calda dal sud. L'arrivo di correnti più calde farà nuovamente alzare le temperature, portandole oltre la media in tutta Italia, fino a picchi compresi fra 28 e 31 gradi nell'area tirrenica al sud e sulle isole.